musica questo è l'unica scelta dell'umanità questo costa molto ma è l'inizio, l'inizio felice per tutto Israele vuole un Stato soltanto per gli ebrei e questo non è possibile e i palestinesi non hanno decriso quale Stato vogliono e quale ruolo che è per i prefigiatri palestinesi del 48 i due popoli non hanno messo le domande rusche Il Stato è l'unica scelta che può cambiare qualcosa che è l'unica scelta e la sicurezza e l'indipendenza è vero che l'America è l'Unione non ha mai aiutato veramente la nostra soluzione tutte le soluzioni sia sono venute dal popolo in si stesso o dall'Europa e dall'America l'unica scelta è l'unica cosa che può cambiare qualcosa insieme 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 in insieme Grazie a tutti.